Ciao a tutti ragazzi, qui ti Blackgame Adesso ho un video veramente interessante del menu Crea una classe di Black Ops 2 Infatti possiamo vedere un po' le armi, alcune delle armi, alcuni degli accessori E sì dai, partiamo subito, sto facendo anche io scorrere il video Quindi mi ricordo di essere il più veloce possibile Un po' di fucili precisi Ce ne vengono mostrati solo tre ma io spero sinceramente ma di tutte le armi che ce ne siano un po' di più Perché ci sono tre fucili di precisione, tre mitralettrici leggere, tre fucili a pompa Porco ma, neanche si sono sprecati molto Comunque abbiamo il DSR-50, l'SV-S e il ballista Adesso vedremo un po' le accessori che potremmo mettere su quest'arma Vediamo che sull'SVS ad esempio possiamo mettere mirino COG, zoom variabile Un dual band che insieme al ballistic CPU sono due specie di mirini Un silenziatore, caricature aumentate, FMJ e laser sight Come vedete, se avete visto il mio video precedente Non vediamo Quickdraw La cosa mi fa pensare Adesso lo noto solo adesso Che Quella che noi avevamo detto Finalmente si sarà una mira veloce anche sui fucili di precisione Probabilmente Ma è un forse Vi confermerò un po' più avanti Magari di stasera che avremo una figa in play Forse sui fucili di precisione non avremo la mira veloce Anche se nel trailer abbiamo visto un quickscope Ma quel tipo di mira veloce sarà possibile solo grazie al bonus destrezza Il quale ci consente dopo una corsa di mirare più velocemente Quindi credo Almeno credo Che con i fucili di precisione non avremo i quickscope Ma li avremo solo dopo una corsa Ecco, grazie al bonus destrezza Qui lascio un punto di domanda Non sparate subito i commenti Caspita non lo compro una cosa o l'altra Poi abbiamo comunque gli FMJ Che sono full metal jacket I proiettili Che ci consente di spostare i materiali Poi abbiamo il laser sight Il laser sotto l'arma Poi abbiamo come secondaria Vediamo delle pistole Aspetta, ecco Qui abbiamo dei fucili a pompa, scusate L'M1216 Il Saiga 12 L'R870 MCS Vari fucili di precisione Varie mitralettrici leggere Ne abbiamo anche qui solo tre L'LSAT QBB LSV LMK48 Abbiamo di nuovo fucili di precisione Abbiamo il ballista Vediamo che al ballista abbiamo un accessorio in più Sia l'Iron Sights Che il mirino metallico Quindi potremmo toglierci il mirino telescopico E metterci il mirino metallico Come abbiamo visto nel trailer Qui come vedete abbiamo su Il bonus destrezza Quindi dopo l'incorso potremo mirare più velocemente Perché vedo che non ho installato il bonus Non c'è proprio l'accessorio Mira veloce Vediamo un po' tutti i perk 2 Come vedete Hardwire Dogness Fast hands Come vedete Adesso vi leggo la descrizione Dice Swap weapon faster Use grenades and equipment faster And safely throw back grenade Grenade frag Frag grenades fast Frag grenades Ok Praticamente vuol dire Cambia arma velocemente Poi usa le granate L'equipaggiamento velocemente Cioè si lancia velocemente E alla fine Rilanciare granate velocemente Ecco non parla di mira veloce Né ricarica veloce Quindi personalmente come ho detto io Proseguiamo Abbiamo I bonus 3 che non Ci vengono mostrati Poi abbiamo comunque Tutte le granate letali Almeno tutte Non so se queste sono mostrate tutte O solo quelle che sono sbloccate Saremo a vedere Abbiamo Granata letale Una semtex Un tomoak Poi abbiamo una claymore Il c4 E la bouncing betty Abbiamo Nelle granate tattiche Vediamo solo l'infiltrazione tattica E la cosa che mi interessava di più Sono le wild cards Quelle cose che vediamo in basso Vedete Sono delle Praticamente Ecco prima di parlare di ciò Vi voglio Farvi notare Quella Linea arancio in alto Vedete 9 su 10 Ecco noi abbiamo 10 punti Cioè 10 spazi da riempire Non di più Potremmo riempire al massimo 10 spazi E ad esempio Se noi vogliamo mettere Il terzo accessorio Sull'arma Dovremo Spendere 2 punti Perché Uno Dovremo Spenderlo per la wild cards Ad esempio questa qui Take a second perk No Sì comunque È una wild card Che ci consente di mettere Il terzo accessorio Sull'arma E poi un punto Da spendere sul terzo Sul terzo accessorio Oppure questo qui abbiamo Ad esempio Take a second perk 3 Avere due volte Il perk 3 Vediamo che abbiamo Condizioni estreme E destrezza Per pagare Per avere destrezza Oltre a pagare Il punto di destrezza Dovremo anche spendere Un punto qui Ecco questo qui Consente di Eliminare Classi overpower Quindi non avremo sempre 10 10 punti Spesi Per la nostra classe Uno dovremo anche Spenderlo per Ad esempio Due punti Come vediamo qui Niente Poi vediamo Le secondarie Delle pistole Qui ne vediamo 4 La cap 40 La tac 45 L'executioner E il b2 Il b23 2 Quindi Mi pare che Come abbiamo visto Nel trailer Del multiplayer Ci sia una pistola Sempre che non c'è L'executioner Che qui non è mostrato Quindi probabilmente Qui abbiamo solo Le armi sbloccate Ehm Poi Vediamo Che cosa fa Ecco degli accessori Sulle armi secondarie Abbiamo un mirino reflex Sul mirino laser Silenziatore Extended clip Che sono caricati E aumentati Fast mag Caricatori veloci FMJ Akimbo E laser sight O se il mirino laser Il laser sotto all'arma Che non è un mirino Poi Ho saltato qualcosina Degli accessori Dei fucili d'assalto Vediamo se adesso Lo mostra Ok Grandissimo Ecco Qui vediamo Invece tanti fucili d'assalto L'SMR L'M81 Type 25 SA58 SIG 556 Scaracca E la N94 Per finire E vediamo un po' come L'accessoria Però svegliati Perché non ho Tutta la giornata Niente Nulla ci mostra Ehm Vi faccio vedere velocemente Qui sotto Prima di uscire Vedete che abbiamo I bonus Target Finder Il mirino Target Finder Che è un mirino Quello che Che crea Un triangolino rosso Ottorno ai nemici Poi abbiamo Select Fire Che ci permette Di selezionare Il tipo di ratio di fuoco Se è un'arma automatica Un'arma a tre colpi O colpo singolo Poi abbiamo Laser Sight Il laser sotto l'arma Qui vediamo in basso Una Wild Guards Wild Cards Primary Gun Fighter Il quale Ci consente Di mettere il terzo accessorio Sull'arma Qui vediamo Che abbiamo speso 9 punti su 10 Non abbiamo il bonus 3 Dopo ad esempio Nelle Wild Cards Ho notato che ce n'è una Ad esempio Per avere due granate letali Ecco per averne due Dovremmo spendere anche una Wild Cards Ehm Poi per avere Ecco Un doppio bonus Dello stesso gruppo E probabilmente anche per avere due tatti Che dovremmo spendere una Wild Cards Ehm Poi ragazzi Proseguiamo ancora un po' Vediamo le serie di uccisioni Cerchiamo di essere più veloci Vediamo tutte Ehm Le serie uccisioni che ci saranno Allora Abbiamo L'R-60 Ecco una cosa che vuole farvi notare Che queste uccisioni Non si prendono a uccisioni di fila Ecco Ma sono Vedete in basso Score Streak Requirements Sono dei punteggi di fila Che ci saranno Ad esempio per avere L'Hellstorm missile Ci servono 525 punti Che sono più o meno 5 kill di fila Più Qualche assisto O qualche bandiera catturata Qualche obiettivo Conquistato Abbiamo le R-60 L'UAV Lanter Killer Che è un elicottero Che tu lanci Lui parte da solo Va a trovarsi un nemico E scoppia Approfugionamenti Contro l'UAV La Guardian La torretta che lancia Onde magnetica L'Hellstorm L'Hellstorm missile È un po' come un missile predator Che praticamente Siamo noi che scegliamo Dove sganciare Questi Questi Bombardamenti Di missili Poi abbiamo Lightning Strike Che è un attacco aereo Scegliamo tre punti Che vengono bombardati Una Death Machine Che è una È come una torretta robot È che è più che robot È una torretta Che controlliamo noi Cioè Siamo noi che la controlliamo Abbiamo la Sentry Gun Che va in automatico Poi abbiamo la War Machine Che è un lanciagranate Non so se è automatico Controllato da noi Spero controllato da noi Perché è automatico So già che la gente Lo piazza E poi Se ne va Il Dragonfire Ossia Il Quadrotor La GR Che è Quel veicolo Una specie di minicar armato Ecco Un drone d'assalto Che controlliamo noi Lo Stealth Shopper Che è un elicottero L'Orbit Orbited Vsat Che è praticamente È come un UAV avanzato Ci mostra la direzione Dei nemici Sulla minimappa È come un radar Che ci mostra anche la direzione E non può essere abbattuto Poi abbiamo L'Escort Drone Che praticamente È un elicottero Che ci Ci fornisce Una protezione Solamente noi Come la H6 Come si chiama La H6 Di Mv3 Vediamo se vediamo Oltre cose Ecco Allora Torniamo lì Ok Vediamo il Warthlog Che praticamente È un aereo Che passa più volte Velocemente Sulla mappa E E fornisce supporto Alla squadra Uccidendo i nemici Poi abbiamo L'AMP L'Aidstar Che non so se sia Quello che abbiamo visto Nel trailer Che va a schiantarsi Per terra Qui non viene mostrato Quindi non so leggervi La descrizione Oppure Non so se sia un Blackbird Sinceramente Preferisco un Blackbird A una cosa che scoppia Perché So già che dopo Mi incazzo Poi abbiamo Un VTOL Warship Che credo sia una specie Di Osprey Se non sbaglio Anche qui non viene mostrato La descrizione Abbiamo i cani E poi La serie di decisione più alta 1400 punti Più o meno 14 kill di fila Per avere il punteggio richiesto Abbiamo lo Swarm Ossia Colina Swarm Orle da Hunter Ok Sono tantissimi elicotteri Che sorvolano la mappa E Appena trovano un nemico Questi partono giù L'attacco Così vanno a schiantare Su di esso Niente ragazzi Il video è durato Leggermente troppo Spero che comunque Vi sia piaciuto In descrizione trovate Il link Al video originale Delle serie di decisioni Vi ricordo di lasciare Un mi piace Qui T Black Game Al prossimo video